Il partito della città è una cortesia, mettiamoci in basso. Voto, andiamo subito al voto, subito al voto, andiamo subito al voto, subito al voto. Noi non siamo qui per protestare in quanto Prodi uomo di sinistra o in quanto Prodi in viso a Silvio Berlusconi dal centrodestra, non ci interessa, non ce ne frega niente, il problema è che Prodi è il curatore fallimentare di questa nazione.